La vita è il giorno da santificare. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB. Guida spirituale. Niente è affidato al caso, niente al caos, ma tutto al divino. Tutto egli comanda e domina, tuttavia niente egli condiziona, ma tutto lascia che scorra nel più naturale dei modi, che è il suo. Tuttavia egli non esercita alcun potere. Io vi dico, come fa il padre, così fate anche voi, fate come lui che conosce tutto dei suoi figli e non influenza mai il loro futuro o il loro presente e non li turba con il ricordo del proprio passato. Egli tutto sa di loro, ma lascia che si dannino e soffrano, che si rallegrino e gioiscano, perché non vuole privare nessuno della poesia della vita, del miracolo che in essa è contenuto, che in essa è manifestamente e completamente. Se Dio è l'essere uniforme, completo, totale ed assoluto, chi è in Lui è uniforme, completo, totale ed assoluto? Perciò io vi dico, fate come il padre fa con voi. Egli non punisce, corregge. Così voi correggete coloro che vi fanno del male o coloro che fanno del male ai vostri fratelli. Correggeteli, perché non sanno quello che fanno. Voi direte che se essi lo fanno, lo sanno. Ma io vi dico che essi non hanno la minima percezione di ciò che fanno, anche se sono consapevoli apparentemente d'una consapevolezza illusoria. È illusorio dunque il loro agire, perché non sanno, ripeto, quello che fanno. E ben lo diceva il Cristo sulla croce. O figli, il Cristo è venuto realmente per separare, realmente Egli ha impugnato la spada per dividere il figlio dal padre. È venuto per separare. Infatti, o figli, quanti morti, quanta sofferenza, quanto sangue a causa del suo nome lungo i secoli di quest'era. Ma io vi dico, figli, che tutto è giusto, anche questi massacri, questi ecidi, che sono avvenuti ad opera di uomini che voi definite malvaggi. Ma io vi dico, è molto più malvagio chi giudica di chi compie un gesto definito quale bassezza nell'opinione comune. Infatti, chi giudica non si pone come colui che fa il gesto, al servizio di se stesso, si pone al di sopra, come se Egli fosse il padre. Ma io vi dico, chi giudicherà con asprezza, con asprezza sarà giudicato. Riflettete, o figli.